E ora parliamo di salute, spesso le conseguenze del glaucoma possono essere anche gravi, fondamentale quindi la prevenzione. Claudio Della Rocca. Colpisce tra il 2 e il 5% della popolazione campana il glaucoma e si concretizza con un aumento della pressione oculare, con conseguenze anche gravi ed è per questo che l'associazione Aero Omnus ha organizzato una campagna di prevenzione generale. In questo momento stiamo facendo uno screening gratuito per individuare persone che hanno la malattia del glaucoma. Il glaucoma è una malattia molto seria perché purtroppo colpisce le persone ma senza dare nessun tipo di fastidio e quindi una persona non sa di avere questa malattia, deve soltanto andare a fare una visita oculistica con misurazione della pressione dell'occhio perché se la pressione dell'occhio tende ad aumentare si può verificare questo tipo di malattia. Il glaucoma bisogna trovarlo precocemente, però è una malattia risolvibile che con delle gocce, quindi con dei colliri appropriati o eventualmente con degli interventi nei casi nei quali c'è la necessità, si può risolvere se è presa in tempo.